Continuano i sondaggi degli studenti dell'IS Ipsar Piranesi. Oggi ci troviamo ad Agropoli per intervistare alcuni esercenti. Io penso che c'è parecchia difficoltà, sia nelle attività commerciali, come i bar, ma tutti gli esercizi commerciali. Prima di tutto i parcheggi sono molto castigati in alcune zone più che in altre. E poi anche il fatto delle licenze che adesso vengono date più facilmente, non come una volta. Però questo è anche un fatto controproducente, perché se in una zona c'è un tot di clienti da servire e io apro un'attività, dopo un po' me ne esce un'altra. Io se dovevo fare questo passo prima non lo facevo, perché pensavo che non c'era una clientela sufficiente per tante attività. Anche in questa via ce ne saranno sei o sette, uno presso l'altro. È già difficile come era prima. Adesso ne sono usciti altri. Qualcuno chiude, qualcuno apre. Questo va bene per chi prende le tasse da noi, ma non per noi che lavoriamo. Però cercare di distribuire le attività con maggior criterio. Se una volta era difficile prendere un'attività, adesso forse è troppo facile. Dare modo con le tasse, agevolare le piccole attività, perché tante cose da fare. Io penso che per migliorare il commercio bisognerebbe portare un po' di gente, trovare qualcosa per sviluppare il turismo, per far venire le persone qui ad Agropoli e quindi si migliorerebbe il commercio sicuramente. Cosa ne pensa del commercio ad Agropoli? Allora, è quasi finito. Indubbiamente perché non ci sono soldi, primo. Secondo, perché ci sono tanti abusivi che vengono specialmente nei periodi dove si vende di più, tipo la festa della donna, la festa degli innamorati. Voi commercianti di questa zona, come vi siete attivati per cercare di attirare i clienti? Ma sicuramente non abbiamo fatto nulla. E al momento non c'è nessuno che... perché non abbiamo qualcuno che ci indrizza, cioè ci porta in un certo... Però... niente. Non stiamo facendo niente. Stiamo curando i nostri negozi alla meglio. Le aperture le facciamo anche straordinarie. Tipo la domenica pomeriggio qualche volta rimaniamo aperti. La mattina io sono una delle prime, a parte i bar, che apre. Da noi qua, se siamo a Speranzaro Comune, non succede mai niente. Non fanno niente. Quindi, Natale non è stata proprio presa in considerazione da noi qua. Mettono qualcosina, ma proprio agli ultimi giorni, loro guardano la piazza, ma la piazza, secondo me, è ancora peggio il commercio. Credo che dopo che hanno tolto il passaggio, tutta l'isola pedonale, non ci sarà un gran che. Noi, prima di tutto, anche gli altri negozianti devono essere molto più disponibili verso i clienti, perché io sento tante persone che vengono da fuori e comunque siamo un pochino arroganti. Parlo in generale, non di me o di un'altra persona. Dobbiamo essere un pochino più tranquilli. È vero che non si vende, è vero tutto quello che volete, però quasi non si fa qualcosa. Parecchi negozi chiuderanno. Del commercio penso che ad Agropoli si potrebbe fare molto di più riguardo al commercio, perché ci sono tante attività, soprattutto queste del centro dell'isola pedonale, che hanno grandi possibilità di fare molto di più. Cosa è stato fatto per incrementare il commercio? Attualmente per il commercio le iniziative sono state ben poche. Penso che la soluzione per poter far ripartire, soprattutto il nostro centro, l'isola pedonale, è quella di dare maggior lustro a questa isola pedonale, che abbiamo bisogno di maggior pulizia, abbiamo bisogno di macchine per la pulizia delle strade, abbiamo bisogno di gazebbi per quanto riguarda le strutture tipo i bar, per far comunque arrivare la gente e farla restare qui, perché tante persone, Agropoli comunque è il posto più bello secondo me del Cilento, e quando una persona viene qui il centro è questo, e praticamente la gente se non vede dove poter stare se ne va via. Qual è secondo lei la condizione per migliorare il commercio ad Agropoli? Poche e semplici regole, rispetto del senso civico, usufruire il più possibile di quelle che sono le strutture, i servizi, tipo i parcheggi, rispettare la viabilità, pulizia, manutenzione degli spazi comuni, del verde, e un pochettino di fantasia. Questo periodo è un periodo un po' fermo, perché è una questione generale della crisi che sta portando comunque anche il commercio agropolese, una fase di stallo. Troppo aspettiamo il periodo estivo per riprendere un po' le attività che abbiamo fatto, anche se grazie agli eventi che sono stati fatti in questo periodo, un po' anche all'inizio della Pasqua e tutto quanto, diciamo che vediamo un leggero movimento solo nel fine settimana, il sabato e la domenica. Ci auguriamo che questo movimento, con le nuove amministrazioni e il nuovo periodo che inizierà, si crei ancora di più. La gente non è che non acquista, non esce proprio, per questo dobbiamo invogliare le persone ad uscire di casa e a venire a fare almeno visita ai negozi. Se non riusciamo a creare delle iniziative per attrarre le persone, non si riesce nemmeno a muovere il turismo. Purtroppo le strutture ricettive è una cosa che manca al momento, secondo me è una cosa che va attivata al più presto perché ce n'è bisogno. Creando le strutture ricettive, creando comunque degli eventi, così può partire il turismo. Cosa ne pensa il commercio di Agropoli? Diciamo che è a periodi, nel senso che da maggio, giugno, luglio, agosto, settembre si lavora. Il problema è il resto dell'anno e quindi bisognerebbe sicuramente inventarsi qualcosa, soprattutto per evitare nei fini di settimana che le persone escano da Agropoli. Nei centri commerciali giustamente ci sono e quindi uno è curioso, perde il tempo, va al bar, però quindi bisognerebbe organizzarsi, ma soprattutto bisognerebbe cambiare la mentalità dei commercianti agropolesi perché di solito si pensa al proprio orticello e non si fa unione o famiglia di commercianti. Diciamo che il problema grande è anche la liberalizzazione che c'è stata delle licenze, però dobbiamo mangiare tutti, tutti dobbiamo lavorare, però se ci fosse un po' di collaborazione i risultati potrebbero essere meglio e poi l'amministrazione che stranamente si vedono solo ultimamente sotto le votazioni, ma il resto dell'anno mi ha fatto una riunione, commercianti, un'associazione, la confesa esercenti pure, so che si stanno muovendo di nuovo, hanno cambiato i membri dell'associazione e quindi chissà, forse faranno qualcosa, non si sa. E noi oggi avendo a disposizione nel nostro piccolo cerchiamo di organizzarci. Il fatto che ad Acropoli non si siano prese delle iniziative per quanto riguarda l'organizzazione del territorio, edilizio e di altre situazioni, ha compromesso un po' diciamo uno sviluppo omogeneo sul territorio del commercio. assistiamo ancora una volta a aperture di tipo, tra virgolette, emozionale, per cui abbiamo da un periodo a questa parte solo una categoria di attività, mentre ne mancano tante altre. Non c'è nessuno che si inventa qualche cosa seguendo una tendenza di mercato che è più globale. Il problema dell'organizzazione è quello della viabilità dei parcheggi di prossimità nell'ambito dei quartieri del centro storico e di altre zone. In effetti noi stiamo assistendo a un lento ma continuo degrado di zone dove in effetti non c'è la possibilità di poter fermare di una sosta breve oppure di parcheggi di prossimità verso strade ad alta densità commerciale. E questa è la cosa più difficile perché avere delle idee e portarle avanti senza avere dei mezzi idonei e senza avere un appoggio omogeneo da parte delle amministrazioni porta poi a delle conseguenze un po' più disastrose. Non è il termine giusto però voglio esagerare proprio per far capire un po' la situazione qual è.